Risultati importanti dal punto di vista tecnico e tanto pubblico. Un autentico successo i campionati italiani di pattinaggio artistico a rotelle svoltisi nella splendida cornice del Palasport Bolino di Roccaraso. Quattro giorni di gara per le categorie juniores e seniors, tre le specialità singolo, coppia danza e coppia artistico, valide per il combinato nazionale. Oltre 200 gli atleti giunti a Roccaraso per una disciplina che vede l'Italia primeggiare a livello mondiale. Il commissario tecnico della nazionale, Antonio Merlo, ha potuto così sciogliere gli ultimi dubbi sugli elementi da portare ai prossimi campionati mondiali in programma in Portogallo e agli europei in Spagna. Come detto, il successo oltre che tecnico e logistico, grazie all'ottima organizzazione, soddisfatti il sindaco del Centromontano Armando Cipriani e l'onorevole Sabatino Aracu, presidente della federazione, che si è fortemente impegnato per riportare il gota del pattinaggio nazionale a Roccaraso.